Alfa, 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 metro. alfa, 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 metro. No. Basta! Appunto. stiamo avanti è sempre un trescinimento 10 minuti Pa pa pa, pa pa, pa pa pa, pa pa pa, si si si! Ho ho ho, no, si 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 Ho ho ho, no, no, no Si 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 Ho 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 ho.. Si 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 mismo ho mi aguardo Si 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 si... Si 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 lo ha mi... E' la paura Ve lo posso garantire Si 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 Tutto questo esiste, appunto Thailander DJ